Ti conosco Mascherina, ti riconosco Galabinov. A volto coperto da una mascherina protettiva, il bulgaro resta sempre e comunque l'uomo gol del Lumezzane, l'uomo del colpaccio, anzi del Lumezzane, che combina quel che non t'aspetti e spugna la Rechi, passa a Salerno, su uno dei campi più difficili della categoria e più caldi anche, sotto ogni punto di vista. Ad un certo punto la temperatura in campo ha toccato i 40 gradi e proprio nel momento in cui sembrava che le due squadre avrebbero ceduto alla calura, ecco il Lume, piazzare il colpo sbanca tutto. Ventottesimo della ripresa, tutto da manuale, il cross di Mancini, la zuccata di Galabinov. Ma non è stato un fuoco di paglia quello del bulgaro perché è stato tutto il Lume a piacere, prima nel respingere gli attacchi della Salernitana, di Gennaro non ha fatto rimpiangere Trini, poi nel compattarsi e tirar fuori tutto, dal cuore alle gambe, alla testa, nulla è mancato.